Ciao, benvenuti da Valeria, una notizia, Avatar sarà come il padrino, parola di James Cameron, dopo il video. Tornano gli anni Ottanta, tornano le emozioni, guarda che ti ho visto mentre ti baciavi con quella nel giardino di casa tua, sparisci. Tornano i sentimenti, e a Roma ce l'ha il ragazzo, quelle belle le becca sempre tutte lui, mi sono innamorata di uno che crede che sono una ragazzina simpatica, io voglio solo te, ma noi ti amo. Torna la grande commedia italiana, e queste che so? Che so? E so a mutande. Mutande, mi dici? E chi è sta zoccola? Io non sono una zoccola. Capri, non mi infranca, non mi infranca il mio sonno, mi aiuti, che posso fare? Aiuto a salmi, dici? Sapore di te, un film di Carlo Vanzina. Che fai? Minasci? E io ti rovino. E io te gonfio. Che fa io? Te gonfio! E io me ne vado. Dal 9 gennaio al cinema. Allora, James Cameron ha dichiarato che le riprese dei nuovi Avatar saranno in Nuova Zelanda. I tre film verranno girati nell'arco di un solo anno a partire dall'inizio del 2014. Però, Cameron ha svelato anche nuovi dettagli in merito, cioè nei sequel la storia andrà avanti. Racconteremo l'evoluzione degli Avatar che creeranno a Pandora delle famiglie estese. Cameron suggerisce di pensare a una saga familiare come... come il padrino. Cosa avrà voluto dire? Vabbè, che paragone. Vabbè, quello che è certo è che uno dei nuovi protagonisti sarà proprio l'Oceano. Il secondo film, infatti, potrebbe svolgersi sott'acqua, quindi una grande novità. Le uscite in sala previste per questi tre film saranno dicembre 2016, 2017 e 2018. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video. Nel frattempo iscrivetevi, se non l'avete ancora fatto, al nostro canale YouTube, così restate sempre, sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!